allora oggi dobbiamo completare l'esercizio che avevamo iniziato insieme ieri sull'indovina il numero se avete guardato su github per trovare esercizio avrete trovato che nel master del progetto in realtà la soluzione che ho fatto in aula non c'era perché per evitare o per mantenere diciamo così separato quello che è il testo di esercizio della soluzione ho pensato di inserire la soluzione in un altro branch così ne accogliamo l'occasione per parlarne del progetto che ho chiamato soluzione in aula quindi cosa vuol dire vuol dire che sullo stesso repository possono convivere più rami diversi che corrispondono a versioni diverse del progetto e in ogni momento la working area no working space del progetto fotografa uno dei rami quindi su github abbiamo questa tendina branch che elenca i rami che sono stati diciamo così salvati e quindi noi useremo quasi sempre branch master sul progetto di partenza ma poi le varie soluzioni le faremo in rami separati così chi vuole fare l'esercizio da zero può partire dal progetto pulito essenzialmente invece teniamo separato rispetto alla soluzione la stessa cosa avviene in eclipse nel senso che dentro eclipse sempre nel menu team abbiamo una voce che si chiama switch to commuta verso cambia a e qui mi elenca i branch che sono stati definiti lasciate perdere questo prove che l'ho fatto io a casa ma non l'ho poi salvato su github quindi rimane locale al mio repository mentre c'è il branch master che corrisponde di fatto al progetto vuoto che è quello di partenza ma se io commuto sul branch team switch to soluzioni in aula i file di progetto vengono sostituiti al volo con quelli della versione del determinato branch in questo caso del ramo soluzioni in aula così possiamo in ogni momento commutare tra una versione dell'altra anche voi se dovete fare qualche cosa conviene sempre farvi un ramo separato lavorare in quel ramo anziché lavorare direttamente nel master perché poi magari a metà vi viene in mente un'altra cosa allora fate ancora un altro ramo eccetera poi solo in un progetto vero solo quando la cosa funziona correttamente si riportano le modifiche all'interno del master con un'operazione che viene detta di merge cioè di fusione ma questa ci arriviamo dopo questo era solo per aiutarvi a trovare dove era finita la soluzione che avevamo fatto insieme in un branch separato quando voi fate il clone di un progetto con un altro progetto da github nell'operazione di clone vi chiede quali branch del remoto vuoi riportare nel tuo repository locale e lì probabilmente chi ha provato a fare clone ha visto che c'erano questi due branch e quindi diciamo così la possibilità di in local di riportarli entrambi ok finita questa premessa su git noi eravamo arrivati se ci ricordiamo a questo punto riga 80 circa dove eravamo sicuri che l'utente aveva inserito effettivamente un numero intero non dei caratteri che non conteneva dei caratteri diciamo così non permessi per un numero e quindi cominciamo a fare ragionamento sul valore di questo numero possono succedere vari casi il caso più fortunato è quello in cui il numero sia effettivamente uguale al numero segreto che deve essere indovinato in questo caso l'utente ha indovinato altrimenti ha sbagliato quindi ha compiuto un tentativo errato questi due casi sono da gestire ovviamente in modo diverso nel caso in cui abbia indovinato gli dobbiamo dire bravo ho indovinato e terminare la partita quindi nel caso in cui indovinato dovrò dirgli noi abbiamo il txt log aggiungere come messaggio appen text hai vinto punto esclamativo è qua barra n chiuse virgolette e poi chiudere la partita chiudere la partita significa andare a disabilitare l'area di gioco della nostra interfaccia e riabilitare il bottone nuova partita per permettere all'utente di iniziare una nuova quindi box si chiamava gioco lo ridisabilito lo disabilito quindi set disable true mentre invece il bottone di nuova partita lo devo riabilitare quindi button nuova partita set disable di false non è disabilitato quindi è abilitato cioè compio qua le operazioni inverse rispetto a quelle che avevo compiuto per iniziare il gioco poi iniziamo il gioco ho disabilitato il bottone ho abilitato la parte l'area di gioco e qui sto facendo il contrario vedete che c'è scritto true e false qui invece c'è scritto false sul button e true sull'area di gioco magari se li scambiamo di posto sono più facili da confrontare rispetto alla versione sopra e poi tanto per la cronaca mettiamo in game a false non abbiamo usato un gran che ma ci conforta che da qualche parte ci sia scritto se il gioco è iniziato o no questa è l'unica cosa da fare quando l'utente ormai è indovinato se l'utente invece non ha indovinato questo tentativo può essere troppo basso o troppo alto oppure questo era l'ultimo tentativo e quindi ha perso quindi nel momento in cui un tentativo è errato se è l'ultimo ti dico hai perso se non è l'ultimo ti dico basso oppure alto giusto quindi a questo punto dobbiamo ancora andare a verificare beh innanzitutto incrementiamo il numero di tentativi perché a questo punto ne hai fatto uno in più e aggiorniamolo subito nell'interfaccia grafica set text andiamo a prendere quel pezzo di là questa riga qua la ricopio sotto se ho indovinato non devo incrementare il numero di tentativi perché se ho indovinato il terzo questo è il terzo se invece ho sbagliato il terzo incremento di uno a questo punto se il numero di tentativi che ho già fatto è uguale al numero di tentativi massimo allora hai perso altrimenti è ancora in gioco e allora devo vedere se il tentativo è troppo alto o troppo basso e quindi a questo punto andrò quindi sono ancora in gioco andrò a confrontare finalmente il numero col segreto se il numero è minore di segreto vuol dire che il tentativo era troppo basso altrimenti era troppo alto allora nel caso di numero troppo basso l'uguale l'abbiamo già visto prima nel caso della vittoria quindi a questo punto o è basso o è alto se il numero è troppo basso lo scrivo txt log punto append text troppo basso altrimenti aggiungo troppo alto il numero di tentativi troppo alto il numero di tentativi l'ho già aggiornato e quindi questi due rametti di esecuzione non devo fare nulla di più mentre invece devo fare qualche cosa nel momento in cui l'utente ha perso se l'utente ha perso gli dovrò dire caro utente hai perso il numero da indovinare era questo almeno gli dico qual era il numero che non è riuscito a indovinare e poi termino la partita quindi aggiungerò un messaggio ad esempio screen format hai perso punto esclamativo il numero era due punti per cento di barra n e gli metto chiuse virgolette il numero segreto vediamo a capo sta riga se no non si capisce niente ok quindi gli dico qual era il numero segreto e poi chiudo la partita quindi queste tre righe in cui chiudevo la partita le devo ricopiare anche qua dentro tali e quali perché devo compiere le operazioni di chiusura della partita vediamo se funziona dopo che ho chiuso la partita ovviamente l'utente qua non potrà più entrare nel metodo handle prova perché il bottone prova sarà disabilitato l'unica azione che l'utente potrà fare sarà tornare il bottone nuova partita il che gli farà resettare iniziare una partita nuova da zero allora proviamo a eseguire questa applicazione con le modifiche di oggi allora indovina il numero nuova partita 50 tentativo il numero di indovinare tra 0 e 100 provo con 50 troppo alto e qui vedete che il numero di tentativi è salito da 0 salito a 1 ho già fatto un tentativo allora provo con 25 troppo basso quindi provo con un numero che sia a metà strada tra 25 e 50 quindi 25 più 12 fa 37 troppo basso quindi devo andare tra 37 e 50 44 no troppo alto 37 43 ci vorrebbe una calcolatrice che è ancora troppo basso i tentativi nel frattempo aumentano se arrivano 7 perdo quindi siamo tra 44 e 50 proviamo con 47 troppo alto 44 45 46 mi sono rimasti solamente 3 45 troppo alto sul filo di lana dovrei dire che il 44 sarà il tentativo sarà il numero giusto hai vinto al sesto tentativo dopo 6 tentativi quindi al settimo ho vinto bene cosa succede se perdo perdere è più facile basta che io metto 33 e provo a insistere sul 33 sette volte aumentano i tentativi e dopo il settimo tentativo mi dice hai perso il numero era 11 e mi permette di ricominciare nuova partita e posso andare avanti così per serate di divertimento infinito adesso magari ci sono un paio di dettagli che vorrei ancora sistemare ad esempio il fatto che quando inizia la nuova partita mi è rimasto il tentativo della volta precedente che mi piace poco e mi è rimasto anche i messaggi della volta precedente quindi magari conviene ripulirli così come magari non so ditemi voi dopo che io ho inserito un numero qua e faccio prova conviene lasciare il numero o conviene ripulire la casella in modo da obbligare l'utente a riscriverlo sono dei pro e dei contro perché se lo lasci è più facile per lui ricordarsi del tentativo che ha appena fatto però c'è che poi clicca due volte su prova e spreca un tentativo se invece lo cancello anche se lui cliccasse su prova non capita niente perché il programma se ne accorge però l'utente deve pensarci non saprei quale delle due cose fa l'utente più felice ma di sicuro sulla partita nuova ripulirei l'interfaccia quindi la finestra di log c'è un metodo clear su tutti questi elementi di testo che li ripulisce li a zera e anche sul txt come si chiamava tentativo lo ripuliamo così sulla partita nuova si parte con la finestra nuova e magari ne approfittiamo anche per scrivere nella finestra di log un messaggio del tipo indovina un numero tra tot e tot perché per ora non era scritto nessuna parte che il numero dovesse essere tra 1 e 100 lo sapevamo noi che abbiamo scritto il programma quindi tra 1 e 100 e non 100 scusate nmax così se dovessimo modificare nmax tutto il programma si adegua piccole modifiche per carità nuova partita indovina numero tra 1 e 100 sempre il mio solito 33 quando perdo chiaramente mi rimane il messaggio ma nel momento in cui ripremo nuova partita riparto con le finestre con le caselline vuote pulite ok direi che fa tutto ciò che deve fare questo programma quindi abbiamo completato possiamo salvarlo fare un bel commit dicendo abbiamo solamente modificato il controller versione completa e facciamo un bel push così sempre nel nel ramo soluzioni in aula facciamo un bel push di questo così ce l'abbiamo anche su Github adesso riflettiamo solo un secondo su questo esercizio allora io nel testo ho messo una dopo su Github oltre al testo e all'esercizio ho messo una serie di possibili estensioni quindi se volete cimentarvi partendo da questa versione completa a fare a migliorarla qui ci sono alcune idee possibili ok per esempio il fatto sono più o meno ordinati dalla più semplice alla più difficile la più semplice è permettere all'utente di abbandonare la partita in qualunque momento oppure indicare lo stato di avanzamento non come numerino ma come progress bar progress bar è un elemento di java effects che fatemi prendere solamente come esempio che funziona così questo qua al centro è una sbarra che sulla base di una percentuale di progresso che noi gli diamo tra 0 e 1 colora una parte una porzione di spazio la vediamo sempre in tutti i casi in cui dobbiamo scaricare qualcosa completare qualche attività quindi anziché mostrare 3 tentativi su 7 mostriamo questo progress bar che via via si riempie oppure punto 3 all'inizio della partita l'utente può selezionare tra diversi livelli di difficoltà per esempio facile tra 1 e 10 difficile medio tra 1 e 100 difficile tra 1 e 1000 e questo vuol dire che il livello di difficoltà va a modificare impostare i valori di tmax e nmax ovviamente se aumento il numero devo anche aumentare il numero di tentativi numero di tentativi che per rendere la partita giocabile possibile deve essere almeno pari all'ogaritmo in base 2 del numero massimo da indovinare perché altrimenti matematicamente è impossibile indovinare qualsiasi numero indovinarli tutti ci vuole una dose di fortuna invece se il numero di tentativi almeno pari all'ogaritmo in base 2 grazie a una scelta intelligente dei tentativi ogni volta rimezziamo le opzioni e quindi siamo sicuri di vincere poi magari nella versione facile decidiamo di regalare qualche tentativo in più perché magari chi gioca la versione facile non è così capace a pensare all'algoritmo di vincita quindi andiamo a complicare qui la fase di avvio partita nel punto 4 è possibile magari avere una casolina di spunta attraverso la quale posso scegliere quando inizia la nuova partita di giocarla in modalità assistita qui c'è scritto cosa vuol dire? è che il programma mi aiuta a tenere a mente il range entro il quale il numero da indovinare dovrà essere sapete che a un certo punto abbiamo detto dunque sarà tra 25 e 50 io questi due estremi che via via si vanno a restringere li tenevo a mente il programma in realtà lo sa perché nel momento in cui mi dice è più basso di tot può ricordarsi in una variabile qual è questo tot o quando mi dice è più alto di tot altro può ricordarsi in un'altra variabile qual è il più alto qual è il numero rispetto al quale sono più alto quindi mi può stampare questi due numeri dicendo qual è il tuo tentativo il tuo numero in base alle informazioni che ti ho già dato è compreso tra 25 e 50 così poi è troppo facile il gioco però proviamo a pensare come implementarlo 5 il programma impedisce che l'utente possa inserire più di una volta lo stesso numero cioè ho scritto 30 riscrivo 30 sono pirla io però questo programma è bravo e mi dice no guarda l'hai già messo l'hai già inserito questo numero quindi non te lo conto come tentativo sprecato un po' come il gioco dell'impiccato in cui una volta che hai detto una lettera non la puoi più dire quella lettera perché ormai o c'era o non c'era quindi sono tutte estensioni possibili su un gioco che è più semplice che si possa immaginare però che ci permettono un po' di di ragionare su come estenderlo e quindi questo potete farlo per divertimento proviamo a immaginare di averlo fatto anche solo immaginare ragionare il programma attuale ci sono alcune cose che non mi piacciono però nel modo in cui il programma è venuto fuori cioè funziona sì ci piace mica tanto perché? beh io ho fatto nello scrivere questo programma troppe volte copia e incolla e puzza copia e incolla perché nel momento in cui tu fai un copia e incolla stai dicendo a te stesso che se in futuro dovessi modificare questo messaggio e quindi il numero anziché mostrarlo come intero fosse come numero reale oppure se anziché in una casa di testo lo mettessi in una lancetta che cresce o qualche cos'altro devo ricordarmi tutti i punti del programma in cui questa riga è stata copia e incollata tipo forse una volta qua sotto qui mescolata ad altro codice e devo andare ad aggiornare ovunque e andarmi a chiedere tra l'altro in quel contesto lì le modifiche da fare sono le stesse o no? sono da riportare la stessa identica modifica oppure lì va fatta una cosa leggermente diversa questo blocco qui set disable set disable qua è fatto in un modo qua è fatto al contrario qua è di nuovo fatto indentato dentro 4 livelli di if uguale al secondo non al primo quindi se questo codice non lo dovessi mai più toccare va bene neanche mai più guardare però così è un problema noi dobbiamo cominciare a pensare non tanto allo scritto finito ma una volta che l'ho scritto comincia la vita di questo software l'ho fatto funziona lo vendo e per i prossimi dieci anni lo devo mantenere in vita e guadagnarmi lo stipendio mantenendolo in vita ad esempio e poterlo modificare quando cambiano le esigenze allora un codice copia e incollato qua e là è una scommessa contro me stesso no? mi faccio del male al me stesso di domani poi non è facile a occhio dire che queste due righe sono identiche a quelle sopra e diverse da quelle sopra sopra perché il true e il false sono scambiati cioè è una cosa stupida no? andare a modificare immaginate il il punti 3 o 4 dove devo andare a modificare l'inizio della partita vabbè allora vorrei dire che anziché il bottone non è una partita ci saranno altri bottoncini lì a fianco no? facile medio difficile ok però allora quando entro nella modalità di gioco devo disabilitare non solo il bottone ma tutta quell'area allora devo andare a cercare tutti i punti in cui ho abilitato barra disabilitato il bottone e dovrò sostituirli con l'abilitazione barra disabilitazione di tutta l'area non è complicato però mi obbliga a ripensare ogni volta al programma riga per riga andarmene a cercare i punti se invece io avessi messo da parte magari in una funzione d'appoggio un piccolo metodino un piccolo metodino di tre righe qualcosa che mi dica entra nella partita e c'è la partita e lì dentro faccio le logiche che servono per aggiornare l'interfaccia all'inizio e fine partita ce l'avrei in un punto solo poi magari mi dite sì ma avresti scritto più righe non importa avrei scritto più righe ma avrei avuto forse due righe in più forse non lo so ma avrei avuto più pulito l'organizzazione del codice più organizzato il mix tra codice relativo all'interfaccia e codice relativo all'algoritmo cioè qua dentro è un macello questo metodo perché c'è una riga che va a implementare l'algoritmo di gioco il numero di tentativi è stato raggiunto il numero minore o maggiore del segreto questo dipende dal gioco e però una riga sì una riga noce è qualche cosa che invece va ad aggiornare l'interfaccia grafica tutto mescolato se dovessi far evolvere l'algoritmo di gioco passare un gioco più complicato e mi perdo perché non è un punto in cui ci sono le regole del gioco è un punto in cui c'è l'interfaccia è tutto mescolato lo vediamo anche all'inizio abbiamo delle variabili che abbiamo definito noi ci servono per giocare e delle variabili che ci siamo trovati dentro che servono per gestire l'interfaccia adesso questo è il programma più semplice che potevo inventarmi però già qua mi dà fastidio questo disordine mescolanza di ruoli quando vi hanno insegnato a cos'è la programmazione oggetti mi hanno detto che una classe dovrebbe avere ogni classe dovrebbe avere un ruolo ben definito e questo ce n'ha due mescolati non è una buona premessa quindi dovremmo poi imparare a separare anziché avere tutto dentro una classe che diventa una classe di 3000 righe a separare le competenze e far sì che la classe controller sia competente per l'interfaccia e una classe separata diventi competente per l'algoritmo e questo permetterebbe se riuscissimo a farlo in futuro eventualmente usare un'interfaccia diversa cioè tu pensi di fare un algoritmo non per questo gioco stupido ma per non so gli scacchi una cosa molto più difficile poi a questo algoritmo che sta in una classe ci agganci sopra un'interfaccia grafica fatta in JavaFX oppure ci agganci sopra un'interfaccia web per giocare su internet oppure ci agganci sopra un'interfaccia mobile o un'interfaccia console da tastiera se tu tieni l'interfaccia separata dall'algoritmo lo puoi fare se tu hai tutto mischiato butti via tutto e ricominci da capo e poi l'ultimo punto che avevo lasciato era il secondo scritto ma l'ho lasciato per ultimo da commentare è non è impossibile ma è pesante da testare cioè per vedere che funzioni dobbiamo inserire delle cose che non sono numeri inserire vedere come si comporta quando la casella è vuota quando la casella non contiene un numero quando contiene un numero quando questo numero ecco cosa non ho controllato se l'utente inserisce se l'utente inserisce 500 non dovrebbe mi dice troppo alto se l'utente inserisce meno 84 parliamo sempre di utenti particolarmente furbi questo è un controllo che dovrei fare quando dico all'utente inserisci un valore tra 1 e 100 non è tra 1 e 100 quindi quel dato meno 84 oppure più 500 sono dati che non devo accettare sono tanto sbagliati quanto è sbagliato il QW che giustamente viene controllato allora ci siamo dimenticati un controllo adesso dobbiamo aggiungerlo se vogliamo ma l'idea è che ogni volta che modifichiamo il programma aggiungiamo qualcosa tocchiamo qualcosa dobbiamo testarlo in tutte le condizioni possibili inserisco un dato valido un dato non valido vinco la partita perdo la partita la vinco al primo tentativo la vinco all'ultimo sono tutti casi particolari in cui devo verificare che il programma funzioni però punto dopodiché modifico qualcuno nel programma lo faccio più bello lo faccio più intelligente lo faccio più veloce devo ricominciare a fare i test tutti da capo perché se tocco qualcosa non è più detto che funzioni ancora tutto come prima e quindi devo rifare questi test a mano giocando le partite che è molto pesante come testing ci passa la voglia non lo facciamo mai cosa sarebbe meglio fare un pochino l'avete imparato nel corso precedente fare delle classi di test se tu fai una classe che implementi certe operazioni e poi a parte fai con JUnit o anche in modo più manuale faccio una classe che testa la classe vera del programma che fa fare cose alla classe e sa cosa quali dovrebbero essere risultati corretti e li verifica quindi si automatizza il test del programma automatizzare il test del programma non è possibile se il programma è grafico perché mentre posso automatizzare la chiamata dei metodi di un oggetto perché faccio un programma di test che chiama quel metodo non è che riesco ad automatizzare il fatto che l'utente inserisce quel numero in quella casella e poi schiaccia il bottone ci serve proprio l'utente e il mouse per poterlo fare perché ci sono dei framework anche per fare il test in interfacce grafiche ma andiamo troppo sul complicato quindi se noi riuscissimo a separare l'algoritmo dall'interfaccia la parte di algoritmo la potremmo testare in modo più automatico l'interfaccia no quella richiede sempre un utente ma almeno la parte di algoritmo che è quella più difficile la potremmo testare separatamente e che vuol dire che la potremmo testare anche più frequentemente e più approfonditamente perché se ho un programma che fa i test questo qui una volta che parte li fa tutti non è l'utente che è stufo di provare a vincere a giocare lo stesso gioco quindi si distrae quindi si dimentica un pezzo quindi questo ci dice che va bene riusciamo a mettere in piedi un programma che faccia qualche cosa di grafico e qualche cosa di algoritmico messo insieme ma dobbiamo darci degli strumenti per poterlo fare su una scala un pochino più ampia cioè pensando un pochino più in grande fatto così non ci piace non va bene è troppo disordinato è troppo mescolato vabbè io qui ho parlato troppo perché poi mi sono dimenticato di fare quel controllo che dovremmo fare dovremmo fare dunque qua dopo che io so che il numero sia intero e prima di controllare se è segreto o no perché una volta io ho fatto l'errore di ragionamento nel primo minuto di oggi in cui ho detto se un numero può essere giusto minore o maggiore in realtà può essere fuori range è un'altra cosa che non ho verificato quindi se per caso se per caso il numero fosse minore di 1 oppure il numero fosse maggiore di nmax allora dico all'utente log txtlog punto append text valore fuori range dall'intervallo consentito barra n chiuse virgolette e esco dal metodo da notare che esco dal metodo prima di avere incrementato i tentativi cioè questo non lo conto come tentativo è un errore di immissione dati come tanti quindi adesso il programma è un pochino più furbo perché se inserisco 500 mi dirà che il valore non è lecito se inserisco invece 100 mi dice troppo alto quindi 100 è ancora valido 101 no troppo alto vabbè 50 io ho giocato un tentativo quindi perderò di sicuro 25 12 se non sono fortunato troppo alto ancora 6 3 4 ho vinto l'ultimo tentativo ok questo tra l'altro ci insegna un'altra cosa ci insegna a non usare mai questa parola completo finito funziona perfetto se le usate come me sarete castigati dal demone dell'informatica che si annida sempre tra le lighe di codice quando dite va bene tutto funziona tutto è perché avete dimenticato qualcosa quindi rifaccio un altro commit con messaggio è sempre il controller verifica range 1 nmax noi capiamo cosa vuol dire ok ok allora queste sono le lezioni che abbiamo provato ad apprendere da questo semplice esercizio un po' come strutturare i programmi in java effects e un po' quali sono i punti di attenzione a cui dovremo agganciarci per impostare un modo un pochino migliore la settimana prossima di sviluppare queste applicazioni adesso cambiamo leggermente argomento nel senso che rimaniamo sempre in java ovviamente ma iniziamo a fare una sorta di rapida non so se chiamarlo ripasso o pennellata sulle strutture dati che in buona parte già conoscete però andiamo a richiamare sempre sotto forma di esercizi le parti più critiche ok io non vi sto a rispiegare tutto sulle collection perché già l'avete fatta sulle liste eccetera però andiamo un po' anche con l'esperienza degli anni precedenti a fare qualche semplice esercizietto che vada a esporre i punti più critici cioè i punti in cui sbagliate più di frequente a usare queste strutture allora ciò che noi sappiamo e che faremo sempre e cercheremo di fare sempre in questo corso è di usare le librerie disponibili dove funzioni ci siano e funzionino bene e in particolare per le strutture dati useremo pesantemente tutte le classi della famiglia delle collection offerta dalla libreria standard java allora voi probabilmente fermatemi se dico se do per scontato qualcosa che non è voi dovreste già aver conosciuto questo tipo di interfacce cioè l'interfaccia collection che è molto generica per rappresentare varie tipologie di classi che contengono altri oggetti questo è il senso di una collection contengono altri oggetti e permettono di fare delle operazioni su questo insieme di oggetti queste collection sono divise in quattro grosse famiglie la più semplice la più nota delle quali è la famiglia delle liste è una lista raccoglie una serie di oggetti che sono caratterizzati dall'ordine di inserimento è stato inserito nella posizione 1, 2, 3, 4 via via che la lista cresce c'è il set che è un insieme di elementi come matematicamente insieme un set un insieme matematico un insieme matematico è caratterizzato dal fatto che gli elementi devono essere tutti diversi tra di loro non possono essere duplicati mentre in una lista è possibile inserire tre volte il numero 17 in un set il numero 17 o c'è o non c'è ma non può esserci più di una volta a seconda del caso dovremmo usare una struttura oppure l'altra poi abbiamo le strutture a coda in cui gli elementi vengono inseriti in un certo ordine e vengono estratti a partire dal più vecchio come le code che fanno non in Italia ma negli altri posti del mondo il primo che arriva è il primo che passa e nel frattempo se arrivano più persone si accodano e dalla struttura dati viene estratto sempre il più anziano o secondo certe funzioni di costo quello a priorità maggiore e poi questa con un nome un po' strano DEC che significa coda doppia coda bidirezionale quindi una coda che può andare in un verso oppure nell'altro lì conosceremo e approfondiremo e poi ci sono la famiglia delle mappe utilissime che tecnicamente non sono collezioni ma le mettiamo insieme perché fanno comunella insieme alle collection perché la collection contiene un insieme di oggetti un gruppo di oggetti una mappa non contiene un gruppo di oggetti ma contiene una relazione tra due gruppi di oggetti tra le chiavi e i valori questo in estrema sintesi oggi ci concentreremo più sulle liste e qui saltiamo questa le la le 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 contengono una serie di interfacce generiche che vanno da collection a list e come ci dice Java l'interfaccia dichiara un insieme di metodi ma non implementa niente e poi ci sono le classi di implementazione che implementando un'interfaccia o più di un'interfaccia forniscono le implementazioni specifiche dei metodi di quella interfaccia ad esempio se andiamo a vedere l'interfaccia list è implementata ad esempio da due classi ben note che sono array list e linked list allora chiediamoci e cerchiamo adesso di chiederci perché mai devo avere due implementazioni diverse due classi diverse che fanno la stessa cosa e che cosa c'è di diverso tra queste due sono domande che ci vogliamo portare queste varie classi qua sotto quelle dove non c'è scritto interface sono classi vere erano ad interno tutte da collection e quindi in qualche modo tutte hanno un certo insieme di metodi comune implementato da tutti tutti i tipi di collection tutte le liste tutti i deck tutti i set hanno questi metodi generici per aggiungere elementi per togliere elementi per iterare sugli elementi della collection verificare se è vuota o se contiene qualche cosa e dato un elemento verificare se quell'elemento è presente nella collection queste sono operazioni di base ok e poi size quanti elementi ci sono tutte queste classi sono ricevono un parametro generico quindi io ho detto collection ma in realtà dovrei dire collection di string collection di oggetti collection di una certa cosa parametrizzato col generics vabbè poi ci sono questi metodi per operazioni di gruppo add all di fatto è l'unione data una collection un'altra collection unisce gli elementi delle due retain all è l'intersezione data una collection un'altra collection cancella tutti gli elementi tranne quelli della prima collection che sono anche nella seconda hanno questi nomi strani ma sono l'unione e l'intersezione e la differenza remove all toglie dalla prima collection gli elementi che sono nella seconda quindi questo ci permette di pensare in modo insiemistico non elemento per elemento ma gruppo per gruppo insieme per insieme ricordiamocelo quando siamo persi nei cicli annidati tre cicli fuori uno dentro l'altro diciamo ma aspetta un attimo questo qua cosa sto cercando di fare? che senso ha dal punto di vista insiemistico? magari mi accorgo che con una chiamata un metodo un pochino più di alto livello me la cavo e non devo impazzire sui singoli elementi cerchiamo di elevarci un pochino stiamo programmando in Java non in C vabbè sulle mappe non parliamo oggi questa tabellina qua ci tornerà utile più avanti ci dà la vista d'insieme delle cinque interfacce principali quali sono le classi di implementazione e sopra c'è l'algoritmo scusate la struttura dati che viene usata per implementarlo ci dice che ad esempio l'implementazione di una lista come ArrayList è fatta attraverso un Array ridimensionabile che vuol dire lo vediamo in un secondo oppure la LinkedList attraverso una lista collegata concatenata quindi sono due implementazioni a livello algoritmico di codice diverse che però fanno le stesse cose nel senso che soddisfano la stessa interfaccia di tipo list e quindi tornando sulle liste dove era? qua poi passiamo all'esempio su cui mettiamo in pratica queste cose sotto l'interfaccia liste cosa possiamo fare? vabbè tutto ciò che potevamo già fare su una collection in generale quindi aggiungere un elemento togliere un elemento però una lista è caratterizzata dal fatto che gli elementi hanno un loro ordine intrinseco che è principalmente l'ordine di inserimento un set ad esempio un insieme non ha quell'ordinamento gli elementi di un set matematicamente non hanno ordine non c'è il primo il secondo ok? se estraggo gli elementi da un set arrivano in modo disordinato se estraggo da una lista arrivano in ordine di inserimento e quindi potendo parlare dell'ordine di un elemento della posizione di un elemento dentro la lista ho dei metodi in più ad esempio get get mi da l'elemento in posizione 0 in posizione 1 in posizione 2 in generale la collection non ha un metodo get ha un iteratore che mi permette di dire dammi gli elementi l'uno dopo l'altro ma non posso chiedere il terzo se non è definito un concetto di ordine su quella collection ecco in una lista l'ordine è definito e quindi posso avere un metodo get che restituisce l'elemento in posizione index 0, 1, 2 oppure modifica set l'elemento in posizione index lo sostituisce con un altro oppure aggiunge un nuovo elemento non in fondo ma a metà della lista facendosi spazio in una certa posizione oppure elimina un elemento non sulla base del suo valore ma sulla base della sua posizione quindi aggiungendo un ingrediente a una generica collection che è la conoscenza dell'ordine con cui sono distribuiti gli elementi abbiamo dei metodi in più che possono essere implementati vabbè contents c'è la già la collection index of mi dice dove si trova un oggetto all'interno di una lista se ovviamente questo oggetto c'è dicevamo che però le implementazioni di lista sono due array list e linked list che differenza c'è? prendiamo la più semplice qui abbiamo un frammento di codice che definisce un array list di stringe allora la prima cosa che vi faccio notare che faremo sempre è che la variabile words in questo caso diventa il riferimento a questa lista la variabile words l'ho definita di tipo list e non di tipo array list quando io dichiaro una variabile un riferimento il più delle volte quando è possibile uso sempre il nome di un'interfaccia e non il nome di una classe specifica l'interfaccia è quella che dice le operazioni che potrò fare con la variabile words e quindi tutto il resto del programma che vorrà usare words gli basta sapere che è di tipo lista e quindi potrà fare tutte le cose che si possono fare su una lista che poi sia un array list o una linked list al resto del programma non interessa quindi io confino nascondo confino l'informazione sul tipo di lista che ho usato nell'unico punto in cui è obbligatorio usarla il new quando faccio new devo fare new di una classe non di un'interfaccia di una classe concreta allora quando creo l'oggetto ovviamente devo dire di che tipo è quell'oggetto quando uso quell'oggetto mi basta sapere quali operazioni svolge l'interfaccia che implementa perché ma perché se decidessi un domande di usare una linked list anche se chiamare un array list mi basta modificare una riga del programma e se tutto il resto usa list ovunque funziona non devo più toccare nulla se invece avessi usato array list ovunque ovunque uso word ovunque lo passo come parametro ovunque lo uso per stampare eccetera dovrei andare a modificare in cento posti al posto di array list linked list sperando di beccare tutti sperando di non modificare qualcosa che non c'entra niente poveretto quindi parliamo delle piccole tecniche che ci proteggono sempre dai noi stessi dal nostro futuro la scelta di quale classe implementa la struttura dati è un dettaglio e come dettaglio nascondiamolo il più possibile facciamo in modo che il resto del programma funzioni lo stesso sia indifferente insensibile a questo dettaglio quindi quasi sempre le variabili le dichiareremo come interfaccia e ovviamente quando creiamo gli oggetti le creiamo in una classe specifica poi più avanti impareremo che molte volte si crea oggetto senza fare new proprio per non voler sapere come si chiama ma questo ci arriveremo implementativamente com'è questa cosa? un array list a volte viene disegnata così cioè un vettore come i vettori che facevate in C di buona memoria un vettore è una serie di caselle consecutive cosa contengono queste caselle? cioè se io ho un array list di string cosa c'è dentro la prima casella? immaginate di aprire il computer e guardare dentro la memoria se la prima stringa è fu la prima stringa che l'utente ha inserito cosa c'è dentro la prima cella di questo vettore? le esposte possibili sono la stringa fu oppure qualcos'altro? quindi rifaccio la domanda in forma yes no dentro la prima cella di el vettore c'è scritta la stringa? è un vettore le cui celle contengono stringhe? no è un vettore le cui celle contengono riferimenti a oggetti di tipo stringa allora questo concetto qua del riferimento dell'oggetto dobbiamo digerirlo bene bene perché altrimenti poi quando facciamo algoritmi complicati ci incasiniamo all'infinito che è il concetto base allora io ho un vettore in questo caso che contiene solamente dei riferimenti a oggetti che stanno fuori quindi in questo disegno ci sono cinque oggetti scusate quattro oggetti un oggetto di tipo array list e tre oggetti di tipo string dentro l'oggetto di tipo array list ci sono tre riferimenti l'inferimento significa poi l'indirizzo di memoria ma all'oggetto fu all'oggetto string che contiene lui finalmente l'ira contiene la stringa bar e all'oggetto che contiene la stringa button tre oggetti diversi ok? quindi se io devo eliminare da questa array list il secondo elemento quante cose quante celle qua dentro devo modificare quante variabili di memoria devo modificare se io da questa lista volessi cancellare bar dovrei mettere vediamo se sono capace a farlo fare in modo che questa riferimento non punti più all'oggetto bar ma punti all'oggetto buzz e qua ci metto un bel null non riesco a scriverlo neanche se mi pagate facciamo così lo a zero questa cella allora guardando questa matrice avrò che la prima cella contiene il riferimento di fu come prima la seconda cella conterrà il riferimento di buzz bar come oggetto esiste ancora ma non so più come raggiungerlo perché l'unico riferimento che avevo l'ho cancellato buzz non si è spostato questo oggetto è rimasto dove era non ho spostato gli oggetti ho riscritto i riferimenti ok è ovvio che se la rail list avesse mille elementi io cancello il secondo dovrò spostare 998 riferimenti spostarli su di una casella ma gli oggetti a cui fanno riferimento rimangono all'oposto non ci interessa se sono grossi o piccoli o alti ok e a bar cosa succede che l'abbiamo staccata lo sapete cosa succede che prima o poi o esistono altri riferimenti che puntano a bar va bene oppure prima o poi quella memoria verrà riciclata dal meccanismo del gerber collection che periodicamente si attiva ok quindi non sentiamoci troppo tristi per quell'oggetto se non serve più verrà buttato via non devo fare nulla di esplicito e se io facessi la stessa cosa con la linked list vabbè questo è lo stesso codice di prima in cui come vedete l'unico punto che ho modificato è dove c'è la new che cambia l'oggetto che ho creato ma il riferimento che ho ottenuto l'ho sempre definito list e quindi tutto il resto del programma tranne ciò che c'è dentro questo metodo qua continua a funzionare esattamente nello stesso modo ma internamente all'oggetto la rappresentazione è completamente diversa una linked list è un oggetto più articolato che contiene tanti piccoli oggettini collegati tra di loro da dei riferimenti reciproci quindi nel caso nostro dove c'era fu come primo elemento questo il primo elemento della lista è un riferimento a fu il secondo era bar e il terzo era bar se non sbaglio e così via questi riferimenti anziché essere impacchettati tutti in un vettore sono distribuiti in tanti piccoli oggetti oggetti che noi non vediamo sono interni all'implementazione della linked list e sono collegati tra di loro con delle frecce avanti e indietro infatti si chiama lista doppiamente linkata questo vuol dire che se io ho questo elemento il secondo posso facilmente passare al terzo o tornare al primo se devo cancellare bar se dovessi cancellare bar come facevo prima cambiamo colore è più facile perché a questo punto basta che a uno che è il primo elemento punti direttamente al terzo e questa qui la tolgo che il terzo anziché puntare indietro al secondo punti direttamente al primo e se riguardo la lista dall'inizio c'ho a1 poi segue a n-1 segue a n e se faccio l'indietro a n-1 precede a 1 lista finita quindi ho dovuto semplicemente riarrangiare due riferimenti per far sparire dall'ordine sequenziale della lista il secondo elemento è un po' più complicato di prima però il vantaggio qual è? che se io avessi mille elementi alla mia destra non li devo né toccare né spostare ho ritoccato qualcuno nel primo e qualcuno nel terzo per cancellare il secondo nel caso dell'array list se dovessi cancellare il secondo elemento da una lista di miglia devo spostare nessun oggetto ma mille riferimenti 998 riferimenti come dicevamo prima quindi quando devo cancellare un oggetto da una lista una linked list è molto più comoda o meno lavoro da fare un array list è più complicato ma se io invece dovessi mi dicono dammi il diciottesimo elemento o il centesimo elemento io avendoli tutti in fila il centesimo elemento è qua il tempo per trovare il centesimo elemento è uguale a quello per trovare il millesimo elemento è uguale a quello per trovare il primo elemento perché so esattamente in quale casella si trovano se invece in una lista mi dicono dammi il centesimo elemento io partendo dall'inizio della lista non so dov'è sarà un oggetto sparso da qualche parte qui ma per sapere che quello lì è il centesimo devo attraversare la lista primo, secondo, terzo quarto, quinto 99esimo centesimo eccolo qua è lui quindi un'operazione semplice come trovare il centesimo elemento l'iesimo elemento in una lista linkata richiede più tempo che in un URL list allora questo spiega a cosa serve un esempio molto semplice per ora poi avremo tempo di riprenderli anche su strutture dati più complesse perché servono implementazioni diverse della stessa interfaccia cioè che fanno la stessa cosa fanno la stessa cosa da implementare le stesse funzioni ma con efficienza diversa se pensiamo alla differenza da queste due strutture dati aggiungere un nuovo elemento è un'operazione banale in entrambi i casi in un URL list scrivo riferimento dentro la prima casella libera in un link at list aggiungo un elemento lo collego va bene cancellare un elemento in un URL list è lento perché devo spostare tutti i riferimenti in una link at list è molto più veloce perché non dipende il tempo di cancellazione di un elemento da quanti elementi ci sono dopo al contrario trovare un elemento per indice conoscendo la sua posizione in un URL list è un'operazione immediata in una link at list invece mi richiede di percorrere tutta la lista allora nel mio programma devo fare più add o più remove devo iterare in ordine o devo prendere con un get gli elementi in un ordine sparso a seconda di questo che cosa devo farci io con questa struttura dati un'implementazione sarà più utile di un'altra e poi ovviamente ci sono una serie di operazioni tipo chiedermi se una lista contiene un oggetto che sono lente comunque perché per sapere se contiene il 17 devo scaldirmi comunque tutta la lista sia che sia in un array che sia linkata finché non ho visto tutti gli elementi non posso essere sicuro se un determinato elemento c'è o non c'è cosa che sarà radicalmente diversa ad esempio di un set dove l'operazione di dirmi se l'aumento c'è o non c'è è istantanea quindi questo tipo di operazioni per questo tipo di operazioni la lista non è la struttura più adatta per questo ci sono tanti DB collection perché per ogni esigenza c'è un tipo di collection più adatto qui ci sono gli esperimenti se volete potete guardare questo grafico in cui hanno temporizzato l'esecuzione di alcune operazioni e fa vedere il confronto tra il tempo di add array list linked list il tempo di una get tra un array list che vedete che è istantaneo e la linked list che invece richiede del tempo e la cancellazione dove invece si vede che l'array list è più lenta e la linked list invece è più veloce poi siamo sulla struttura di dati più semplice che esista la lista questi tempi sono comunque tempi molto rapidi quindi non ha un enorme impatto sulle prestazioni questo caso specifico però come metodo di ragionamento cominciamo già a pensarci scelgo una struttura dati piuttosto che un'altra perché il mio programma avrà bisogno di fare questo tipo di operazioni piuttosto che queste altre e lì e in quel tipo di operazioni è più efficiente è più semplice è più rapido allora per mettere in pratica questi ragionamenti come dicevo mi ha fatto una sorta di rapido escurso su cose che in buona parte già conoscete ma a noi piace evidenziare le criticità allora iniziamo un nuovo esercizio iniziamo adesso poi lo competeremo o lo continueremo nell'ora successiva in cui c'è un pochino da lavorare sulle liste ma non sulle liste di stringhe o sulle liste di numeri interi perché se no sono troppo facili e non ci permettono di vedere le trappole nelle quali possiamo cadere allora noi facciamo un semplice esercizietto in cui ci sia da gestire una sorta di libretto universitario ok un libretto universitario cos'è? è una cosa che contiene i voti che hai preso quindi io definisco un oggetto libretto una classe libretto e una classe voto che rappresenta il singolo voto che ho preso all'interno del corso di studi ok e poi facciamo un programmino di test che usi questi oggetti libretto e voto per fare una serie di operazioni anche qua in ordine di non dico complessità ma ragionamento crescente ok? allora io parto con un progetto vuoto nel quale ho semplicemente definito una classe libretto che non ha niente perché la voglio fare insieme a voi una classe vuoto anche essa vuota allora partiamo dal basso la differenza di approccio rispetto al corso di programmazione oggetti che avete appena fatto è che là vi dicevano fai un oggetto così e così così che abbia questi metodi che facciano queste operazioni qui invece noi diciamo abbiamo un problema da risolvere rappresentiamo il libretto universitario e quali sono le classi quali sono i metodi quali sono le proprietà ce li dobbiamo decidere noi ok? allora che cosa rappresenta un singolo voto? beh un voto sul libretto è rappresentato da tre dati no? il nome dell'esame il voto che hai preso e la data quindi qui dentro ho tre proprietà l'esame il voto e la data come oggetto data noi impareremo non usare java.util.date che magari avete usato l'ho visto in passato perché fa schifo non si comporta bene grazie e è complicato da usare e impareremo che esiste invece una libreria per gestire date e ore in java da java 7 in avanti quindi ormai ben consolidata nella quale sono definiti gli oggetti che si chiamano local date e altri tipi di oggetti questa libreria si chiama java.time quindi noi useremo questo tipo di classi per rappresentare le informazioni temporali le informazioni temporali date ore eccetera sono sempre una rogna in qualunque programma tranquilli creano sempre guai ok allora usiamo una libreria un pochino più furba che non quella che è stata inventata java.util.date è stata inventata nella versione java 1.2 che oramai è bisnonna però visto che oggi non vogliamo incasinarci facciamo finta che la data non ci interessi ok la commentiamo poi ci arriveremo a questo ragionamento sulle date facciamo finta che il libretto sia fatto semplicemente da un esame e da un voto ok questa è una classe no cioè una classe per partecipare a un programma java deve avere un minimo di metodi definiti primo tra tutti il costruttore me lo faccio fare da Eclipse ovviamente non lo faccio da solo quindi sorgente implementa genera il costruttore partendo dai campi quindi genera un nuovo oggetto di tipo vuoto partendo dal nome dell'esame e dal valore del vuoto e poi genera i vari metodi di setter e getter per permettere a chi usa la classe vuoto di poter leggere get e modificare set i valori delle due proprietà dell'oggetto due perché la data l'abbiamo commentata questo comincia ad essere un oggetto un pochino più completo a volte lo chiamano non so se avete già sentito questa terminologia POJO POJO plain old java object cioè un oggetto java semplice che non ha metodi per fare niente non fa niente è semplicemente però il costruttore il get il set e poi un po' di altri metodi di servizio che introdurremo tipo l'equals queste cosette qua ci arriviamo in un secondo sapete perché si decide di avere un metodo che so getvoto e setvoto per poter modificare un campo privato e quindi lasciare il campo voto privato perché non potrei fare mettiamo a pubblico sto campo cioè ho fatto un campo privato e poi ti ho dato un metodo per poterlo modificare sono masochista o cosa potevo fare il campo pubblico subito cioè chi usa questa classe voto adesso per impostare il voto dovrà fare v.setvoto di 30 e altrimenti potrebbe fare v.voto direttamente uguale a 30 v.voto uguale a 30 sarebbe possibile se v è ovviamente un oggetto di tipo voto sarebbe possibile se voto fosse un attributo pubblico della classe quello che ho chiamato voto 2 ma poi chi è privato ha bisogno di un metodo di accesso per poter impostare ma alla fine lo modifico quel campo se ho fornito il metodo set che è pubblico perché facciamo così? perché l'oggetto deve avere o può avere delle autodifese perché se io faccio voto uguale a 60 un'altra classe che fa voto v.voto uguale a 60 questo 60 va a finire lì è un dato sporco ma se io faccio setvoto di 60 chiamo un metodo setvoto il quale potrà dire che se il voto è minore di 18 oppure se è maggiore di 30 lasciamo perdere le lodi non complichiamoci la vita allora non va bene allora non so genera un'eccezione c'è un'illegal argument exception se non sbaglio altrimenti new altrimenti va avanti e salva il voto perché quel valore è valido in questo modo se qualcuno cercasse di fare setvoto di 60 si becca una bella eccezione e il programma si blocca non deve essere fatto in altri casi magari quel voto vabbè setvoto di 60 lo prossimo a 30 non so gestisco in qualche modo i valori errati io getto vuoto so quali sono i valori leciti giusti furbi per i miei campi e sono io che decido se accettarli o no qui non voglio che dall'esterno mi modifichino i valori voglio che se qualcuno vuole modificare i valori chiede per favore me lo chiede e io lo faccio dopo aver controllato che la richiesta sia lecita ok? ci chiederemo tante volte il perché delle cose che già sapete ok togliamo questo voto 2 che fa il librezzo e poi il libretto il libretto cos'è? beh non è altro che una lista di voti un elenco di voti no? quindi allora una private list di voto quindi è una lista che contiene oggetti di tipo voto e ho definito la variabile come list non come array list o linked list o altro fate sempre attenzione nei clips che non vi scappi il click facile perché dice quando qui sei in un errore ci chiede di indicare il package da cui prendere questo nome list non cliccate mai il primo ma andate a leggere qual è perché noi dobbiamo prendere java.util.list java.avt è un'altra cosa quindi a volte ci sono ah c'è il programma è pieno di errori qua e là perché avete cliccato per importare il package sbagliato in questo quando creo un oggetto di tipo libretto quanti oggetti vengono creati per ora zero cioè oltre all'oggetto stesso perché la lista l'ho dichiarata ma non l'ho ancora creata chiaro? ho dichiarato un riferimento voti che dovrà puntare un oggetto di tipo list che poi conterrà i voti per ora questo oggetto di tipo list non esiste ancora lo devo creare e dove lo creo? nel costruttore quindi questa classe avrà un costruttore libretto che non ha bisogno di parametri quando costruisci un oggetto di tipo libretto lui si inizializza una lista nuova e vuota a questo punto possiamo decidere ad esempio di usare un array list oppure una linked list questa sintassi qua la conoscete? è il generics è un modo per dire al compilatore java sì questo è un generico ma tu sai qual è di la verità perché visto che dis.voti è una lista di voto qui è come se avessi scritto voto perché lo puoi si chiama type inference inferenza automatica del tipo qui ci sono dei contesti in cui il compilatore riesce a capire qual è il tipo dell'oggetto che deve creare e quindi ti permette di lasciarlo sottinteso è come se c'è scritto voto ma non c'è scritto se non c'è scritto uno non può essere sbagliato quindi un errore in meno per noi due se mai lo dovessi cambiare cambia da solo quindi cerchiamo di usare anche questi a questo punto quando io creo la classe libretto lei creerà un oggetto di tipo array list che al momento conterrà zero voti e per poterla popolare mi servirà almeno un metodo add che riceve come parametro un voto void attraverso sul quale io posso aggiungere al libretto un nuovo voto e quindi l'implementazione di questo metodo non è altro che prendere l'oggetto v e aggiungerlo alla mia lista v quindi io incapsulo il metodo add della mia lista in un metodo add del libretto che poi viene l'aggiunta di un voto al libretto diciamo che viene delegato quindi la stessa operazione concettualmente a un livello più alto viene delegata alla struttura dati sottostante che è la lista poi sto facendo un vestitino intorno a una lista e questo già mi permette e poi vi lascio un po' intervallo di fare un primo programma di prova che chiamo test libretto quindi faccio un'altra classe che testa questo questo progetto l'ho creato come progetto java semplice non preoccupiamoci di interfaccia perché stiamo lavorando sugli algoritmi che abbia dentro un main e dal main facciamo qualche test quindi possiamo creare un oggetto di tipo libretto e dentro questo libretto ci mettiamo due esami due voti anzi chimica 28 dai già che li inventiamo inventiamo li belli e quindi possiamo provare a eseguire questo programma di prova e vedere una prova grossa se funziona per ora un attimo che sta compilando non vediamo nulla perché il programma non stampa nulla però perlomeno non è stampato un'eccezione che è già qualcosa se al posto di 30 facessimo 40 probabilmente lo fa? no c'è qualcosa che non va perché dovrebbe giarmi un'eccezione qua vabbè ci pensiamo dopo cosa dobbiamo fare adesso per poter vedere almeno se questi voti sono stati inseriti correttamente bisogna aggiungere un metodo di stampa ok allora aggiungiamo al libretto un altro metodo stampa chiamando il quale lui stamperà l'elenco dei voti su console ad esempio qui mi dirà system.out punto print line ci sono un certo numero di voti che quindi sono voti punto size e poi stamperà i singoli voti quindi sarà for voto v due punti voti iteriamo sulla lista in ordine di inserimento e per ciascun elemento stampiamo il voto corrispondente stampiamo l'oggetto v questa è la classica forma abbreviata dell'iterazione quando ho una collection posso iterare sui singoli elementi della collection facendo in modo che l'elemento v per ogni iterazione corrisponda faccia riferimento sia un riferimento a ogni singolo elemento della collection il primo secondo il terzo se se serviamo questo lo fai? di ah no certo non ho chiamato il metodo stampa mi stamperà che ho preso questi due voti cos'è questa stampa qui? ci sono due voti va bene perché sono quei due che ho inserito cosa mi ha stampato? mi ha stampato di fatto l'indirizzo di memoria degli oggetti voto che ho creato no io non voglio l'indirizzo di memoria voglio il voto come faccio a mostrare qualcosa di leggibile? devo aggiungere un metodo di servizio alla classe voto che si chiama toString il metodo toString viene chiamato automaticamente ogni volta che voglio convertire l'oggetto in una sua rappresentazione visibile comprensibile testuale altrimenti l'implementazione di default del metodo toString mi scrive il nome della classe e l'indirizzo di memoria in base 16 con cui non me ne faccio molto allora se io all'oggetto voto vado ad aggiungere un'altra funzione che tra l'altro è di quelle che Eclipse può generare da solo dov'è? toString eccola qua genera toString lui mi chiede quali valori vuoi che vengono compresi nella stringa che genero beh sia l'esame che il voto e mi genera una stringa di questo genere poi se voglio la posso modificare ma come prima istanza va bene e questo mi permette di eseguire di nuovo questo programma e avere una stampa più intellegibile quindi quando creiamo degli oggetti ci sono una serie di metodi di servizio che ci conviene definire per permettere questi oggetti di essere usati in modo molto più semplice se a qualcuno di voi fosse venuto in mente qua anziché di fare print di v se vi fosse venuto in mente faccio ma perché faccio print v.getesame e poi più spazio più v.getvoto che stampava la stessa roba ovviamente sarebbe stata un'idea migliore o peggiore? Peggiore perché la classe libretto non ha bisogno di sapere come è fatto il voto dentro perché domani che aggiungessimo la data perché la dovremmo aggiungere ci tocca andare a modificare anche questa print qua invece io ho la classe libretto che chiede all'oggetto senti tu come ti stampi to string io sono fatto così se aggiungo un campo modifichi un campo all'oggetto voto basta che io modifichi il metodo to string e il libretto non ha bisogno di saperlo per poter stampare un messaggio coerente ok? quindi l'informazione deve stare nel posto giusto l'informazione su come viene visualizzato un voto lo sa la classe voto con il suo metodo to string le altre classi che hanno bisogno di visualizzare voti useranno il to string di quell'oggetto non hanno bisogno loro di andarsi a prendere singoli campi e metterli insieme salvo esigenze particolari quindi noi siamo arrivati grosso modo al punto 1 di una lista di esercizi da fare su questo tema come dicevo l'esercizio è banale ci dà però lo spunto per farci delle domande ragionare su abitudini che abbiamo appreso e però dobbiamo un attimo capirle meglio per poterle usare in contesti più complessi ok vi lascio tempo di riprendere fiato prima di andare avanti e di far committe della lezione da parte mia